Radio Radicale, siamo in collegamento con Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, per parlare con lui del G20, possiamo parlare anche della Coppa 26 di Glasgow, nella parte residua dell'intervista, visto che i due appuntamenti si stanno incrociando, e fare una valutazione di quello che abbiamo visto in questi giorni di vertice mondiale a Roma. Allora, mi sembra che questo appuntamento dalla maggior parte dei giornali e delle televisioni sia stato trattato un po' come Vacanze Romane, Quadro Iepo e Gregory Reck. In realtà poi gli aspetti politici sono rimasti in secondo piano e mi sembra che ci sia stato da parte dei mezzi di informazione un cauto ottimismo nel dire che in qualche modo sono stati raggiunti dei risultati buoni. Lei ha pubblicato un articolo sull'Huffington Post dove è della visione opposta. Ci spiega quali sono le sue perplessità sugli impegni presi sulle emissioni e sul clima? Perché non c'è nessun impegno preso dai grandi del mondo sul clima. C'è un riconoscimento della validità scientifica che viene dall'IPCC, voglio dire dai scienziati dell'ONU, che ci dicono che dobbiamo contenere il riscaldamento globale entro un grado e mezzo. Ma entro quando e come? Questo non viene detto. Il famoso 2050, l'anno 2050, in cui dovremmo azzerare tutte le emissioni di CO2, non viene assolutamente nemmeno indicato e quindi nel documento, che è un po' un modo quasi stilistico e lessicale di raggiungere delle mediazioni da questo punto di vista, non va nella direzione giusta. Allora, c'è stato alla vigilia di questo vertice un appello degli scienziati. Che cosa hanno chiesto gli scienziati in particolare a questo vertice? Gli scienziati hanno chiesto di ridurre le emissioni di CO2, di azzerarle entro il 2050, di contenere il riscaldamento globale entro un grado e mezzo. Il documento finale, che devo dire da Draghi, è stato presentato come un grande risultato, dal nostro punto di vista non lo è. Come dicevo prima, è un po' una sintesi lessicale di mediazioni che sono stati fatti tra i governi, per cui se non si dice entro quando, ma quali sono gli impegni che sono presi? Gli scienziati ci dicono che non abbiamo più tempo da perdere, c'è scritto proprio questo, se non sarà la catastrofe climatica nel pianeta. Anche dal punto di vista delle risorse, si parla dei 100 miliardi di dollari da conferire ai paesi più poveri. Ancora questi 100 miliardi di dollari non si trovano e sono assolutamente, diciamo, irrisori rispetto alla sfida che abbiamo di fronte. E poi se pensiamo che il 2020 si è chiuso con un'impennata sulle spese per gli armamenti pari a 2.000 miliardi di dollari, capiamo proprio la distanza abissale tra quello che si vorrebbe fare e quello che in realtà non si fa. Ecco, noi siamo molto preoccupati. Sa, c'è anche un impegno che è stato preso che dovrebbe far riflettere e che la dice lunga su questo summit. Si è preso l'impegno di piantare mille miliardi di alberi nel pianeta, però non si è preso nessun impegno per fermare la deforestazione nella foresta amazzonica, nelle foreste pluviali dell'Indonesia, della Malesia o del Centroafrica. Bolsonaro è andato a Roma a dire, sembrerebbe una barzeletta, però a me viene da piangere, che la foresta amazzonica non può bruciare perché è una foresta umida. Ecco, francamente trovo incredibile tutto ciò, non c'è un impegno per fermare la deforestazione nel mondo, e invece si prende un impegno per piantare mille alberi, come se la distruzione di biodiversità delle foreste tropicali e pluviali potesse essere compensata piantando qua e là nel mondo mille miliardi di alberi. Le piantassero, però francamente se smettessero di far bruciare e tagliare le foreste sarebbe la cosa più saggia e più efficace da fare. Allora, come si è presentata all'Italia questo appuntamento e soprattutto perché l'Italia non ha nominato il suo inviato speciale per il CRIMA, che era stato istituito proprio da questo governo lo scorso giugno. Allora, che cosa significa questa mancanza? Che qualcuno nel governo ha rivendicato questo ruolo e l'inviato speciale non è stato, diciamo, reso tale, nominato, perché c'era qualcun altro che voleva fare l'inviato speciale del CRIMA? O non ci si è posti proprio il problema? Andando per ordine, partendo da quest'ultima considerazione, l'inviato per il clima, il punto non sono i posti chi lo fa, ma il punto sono le politiche di un governo. L'inviato per il clima fa l'inviato per il clima delle politiche del governo italiano. Penso che stiano litigando, discutendo, da quello che io ho saputo. Il Ministero degli Esteri, guidato da Di Maio, rivendicerebbe la scelta, idem lo vuole il Ministro della Transizione Cingolani, ma al di là di... Allora, scusami, c'è questa rissa qui in corso? Diciamo che c'è questa disputa tra un Ministro degli Esteri che rivendica il diritto di fare la no, di fare il nome in condivisione col Ministro della Transizione Ecologica, e viceversa il Ministro della Transizione Ecologica, ovvero Cingolani, rivendica il diritto di fare il nome in condivisione del Ministro degli Esteri. Però il punto è che, al di là di chi sarà il Ministro, l'inviato per il clima. Quali sono le politiche per il clima del governo italiano? E infatti il biglietto da visito con il quale l'Italia si presenta a Glexgo, con la quale si è presentata anche al G20, non è bellissimo. Anzi, noi abbiamo due provvedimenti strategici che dovrebbero costruire le politiche sul clima dell'Italia, che sono il Piano Energia e Clima e il PNRR. Il primo non rispetta le leggi europee sul clima in materia di riduzione della CO2, in materia di energie rinnovabili, sono totalmente fuori legge. L'Italia prevede con quel Piano Energia e Clima il 37% di riduzione al 2030, la legge europea prevede il 55%. Sulle energie rinnovabili siamo lontanissimi, pensate che noi installiamo meno di un gigawatt l'anno di energie rinnovabili in Italia e se volessimo raggiungere l'obiettivo di 70 gigawatt facciamo un calcolo di quanti anni ci servirebbero, andremo a finire al 2060. Insomma, è una cosa, oltre al 2060, al 2070, insomma, è un fatto di una gravità inaudita. Poi, se pensiamo che il PNRR rinuncia a fare investimenti forti in settori strategici, come quelli del trasporto pubblico, sulle energie rinnovabili, e che su questa questione della transizione ecologica il ministro Cingolani ha avviato in Italia una campagna di comunicazione basata sulla paura, facendo passare il concetto nell'opinione pubblica che la transizione ecologica significa bagno di sangue. Insomma, c'è tra il dire e il fare, non solo c'è di mezzo il mare, ma c'è anche tanta ipocrisia. Allora, dunque, Draghi oggi sulla COP26 ha detto che i soldi non sono un problema ed ora dobbiamo usarli bene e in fretta. Allora, si può fare questo discorso per una, diciamo, emergenza, diciamo, climatica che deve essere, diciamo, programmata e i soldi vanno spesi, ma vanno spesi nei tempi giusti. Allora, come trovi questo ragionamento che ha fatto Draghi che ha ricordato che per il clima ci sono decine di trilioni di, non so se si riferiva agli euro o ai dollari? Ma in linea di principio è un ragionamento che non mi sento di contestare, se non poi lo dobbiamo applicare e contestualizzare alla realtà. Non è vero che i soldi ci sono, perché se fosse vero allora nel nostro paese avremmo dovuto fare investimenti necessari e urgenti che non sono stati fatti. Ribadisco, la mia è una fissazione. Quella, ad esempio, del trasporto pubblico nel nostro paese, non solo nelle città ma i trasporti regionali, si è rinunciato a investire. Noi paghiamo un prezzo elevatissimo in termini di vite umane, secondo l'Agenzia Europea per l'Ambiente, a causa dello smog nella città e con costi economici sociali elevatissimi, 56 mila decessi l'anno, oltre 80 miliardi di euro l'anno a causa dei costi economici dello smog. Ecco, lì si è rinunciato. Pensate che su PNRR si potranno, con le risorse investite dal PNRR e dal governo italiano, sostituire solo l'11% tra il trasporto pubblico, tra i treni regionali e gli autobus delle città. Per non parlare delle energie rinnovabili, poi questa questione di distrazione che è stata utilizzata dal ministro, di cominciare a parlare di nucleare, quando invece non ci dice il ministro e il governo italiano di cosa si deve fare oggi per portare il nostro paese a essere leader in Europa e nel mondo della produzione di energie rinnovabili, nelle tecnologie connesse, dimostra purtroppo, ahimè, che i ragazzi del Fridays for Future e Greta, che ahimè devo dire in una recente intervista sull'avvenire il ministro Cingolani ha definito qualunquista, questi ragazzi rappresentano una speranza e dicono anche giustamente che ci sono troppi bla 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 bla, e hanno ragione, perché se gli scienziati ci dicono che non abbiamo più tempo da perdere, perché la catastrofe climatica è imminente, qual è la ragione per la quale non si prendono impegni su una data, ovvero di dire entro quella data dobbiamo avviare la conversione ecologica industriale, è evidente che non si fa perché ha un prezzo economico, ed ecco qui la contraddizione rispetto a quello che ha dichiarato Draghi, perché se è vero che ci fossero le risorse, allora queste dovrebbero essere immediatamente utilizzate per accelerare nella conversione ecologica, per evitare il disastro, io non voglio essere catastrofista, ma se centinaia e centinaia di scienziati da tutto il mondo, riuniti sotto l'eggita delle Nazioni Unite, ci dicono che non abbiamo più tempo da perdere, per quale ragione dobbiamo invece procrastinare, prorogare come se nulla fosse. L'ultima domanda, a Glasgow c'è anche il principe Carlo, chi convince il principe Carlo come ambientalista? Io non mi metto a dare giudizi di ambientalista a questo, a quello, quindi non sono, come dire, perché potrei anche essere io non adeguato alla funzione che svolgo, io penso che di fronte a noi abbiamo una grande sfida, tutti coloro i quali si rendono conto che questa sfida epocale per salvare il pianeta, l'umanità, deve essere giocata insieme e benvengano, però quello che invece oggi dobbiamo, su cui dobbiamo concentrarci è l'inazione dei governi del mondo e questa inazione sa da che cosa è rappresentata plasticamente dalla foto della Fontana di Trevili, cioè i grandi del mondo che lanciano la monetina alle loro spalle è come se si affidassero al destino e invece il destino dovrebbe essere governato da loro, da loro dovrebbe essere guidato e questa è francamente, quella foto rappresenta proprio il disagio fortissimo che milioni di cittadini del mondo vivono nel vedere i propri governanti non fare quello che dovrebbero fare. Quindi la monetina non se la dovrebbero lasciare alle spalle ma controllarla sotto i loro occhi? Devevano governare i processi. Io capisco che c'è la leggenda che lanci la monetina e così torni a Roma, ma quel lancio è il segnale di un affidarsi proprio al destino. Non sei lì a fare una visita turistica, sei lì a rappresentare una parte consistente del mondo, del G20 e che quindi sarebbe stato necessario che ci fosse una foto in cui venivano ripresi gli atti concreti, le date certe entro la quale tutto il mondo insieme avviava questa grande strategia per fermare il riscaldamento globale. Così purtroppo non è stato e temo che purtroppo così non sarà nemmeno atletico. Ecco, ma l'assenza russo-cinese secondo te è stata proprio l'annuncio dell'esito negativo del G20? Ma è il problema dei problemi perché se pensiamo che la Russia, la Cina sono grossi emettitori di CO2, è evidente che senza di loro non si va da nessuna parte, ma va studiata anche una strategia commerciale da questo punto di vista. Ci serve l'acciaio cinese prodotto con il carbone che inquina? Ecco, io penso che dobbiamo cominciare a pensare di come si deve tassare, devono tassare prodotti ad alto contenuto di carbonio, di inquinanti, per evitare che invadano i nostri mercati. Idem è l'Amazzonia. Il Brasile è il quarto emettitore nel mondo di CO2 a causa, per quanto attiene gli elementi provenienti dagli aspetti della terra, insomma dal fatto che vengono bruciate le foreste. Ecco, l'Europa che ha tanto pianto e ha detto da Macron in poi la Marazzonia brucia, preghiamo per l'Amazzonia, l'Europa adesso vorrebbe sottoscrivere quell'accordo commerciale che si chiama EU-Mercosur, insieme quindi a Bolsonaro, che darebbe il via libera alla commercializzazione di tutta una serie di prodotti che derivano proprio dalla distruzione della foresta, sia nell'agricoltura, sia l'oro, sia tutto il legno e tante altre questioni. Penso che ci vorrebbe un atteggiamento molto più etico, non solo più etico, ma anche che consenta di salvaguardare le economie che invece hanno fatto dell'azione della riduzione del cambiamento climatico e quindi della riduzione delle emissioni di CO2 un loro modo di fare e di agire. Quindi io penso che la questione della tassazione dei prodotti che hanno un alto contenuto inquinante da CO2 devono essere assolutamente fatte per tutelare anche invece quelle economie che le politiche sul clima le vogliono applicare. Bene, grazie come sempre ad Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, con il quale abbiamo parlato sia del G20, ma anche di Coppa 26 che si apre a Glasgow, e abbiamo fatto un po' il bilancio di quello che si è detto e delle tante cose non dette in questo appuntamento e delle lacune e anche di qualche lacuna italiana. Io ti ringrazio, grazie come sempre ad Angelo Bonelli. Prego, volevi dire... Grazie Radio Radicale. No, voglio ringraziare Radio Radicale. Ok. Grazie. Grazie.